Un saluto dal Tg della Mobilità, lavoro di adeguamento del ponteggio degli archi delle mura Gianicolenzi tra via Calandrelli e via Fratelli Bonnet. Sono deviate le linee 44 e 75. La 44 in direzione di via Montalcini e la 75 verso via Poerio da via Induno passano su viale Trassevere, la circonforazione Gianicolenze, piazzale Dunante e viale 420. Da qui la 44 passa per via Bolognesi e riprende il normale percorso, mentre la 75 prosegue per via Fratelli Bonnet e via Carini. In senso opposto da via Fratelli Bonnet le due linee continuano su via Carini, via Regnoli, via dei 420, piazzale Dunante, circonforazione Gianicolenze, viale Trassevere e via Induno, da dove riprendono il normale itinerario. Momentaneamente sospese 10 fermate, il termine dei lavori è previsto per domani. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.